ragazzi ho voluto portare avanti i lavori per risparmiare minuti preziosi per il video e alla fine ho ottenuto questo come vedete ragazzi ho fatto già quattro dita che grazie a questi elastici qua che le tengono tese ritornano dritta in posizione di riposo adesso però manca la nostra mano e il pollice ponibile quindi vedremo come realizzarlo con la tecnica della graffetta per farlo ragazzi vi servirà a costruire una forcella e infilarla all'interno dei buchi della mano come questa qua e alla fine storcela e avrete il risultato questo pezzo insomma adesso ragazzi dopo aver realizzato le nostre falangi per il pollice adesso possiamo procedere ad attaccarle ad applicarle quindi con questo stecchino ok ragazzi questo è quello che dovreste ottenere come pollice adesso manca solo una cosa al nostro pollice cioè mettere i nostri elastici ok ragazzi dopo aver infilato questa parte qua quindi elastico negli occhielli questa parte qua rimasta la facciamo passare sotto questi altri con attenzione sempre mantenendola tesa ecco ecco e con un po' di colla con l'attac io in questo caso la utilizzo la colla attac l'attacchiamo qua alla fine ragazzi dovrete ottenere questa struttura qua allora la mano noi adesso l'abbiamo finita però mancano solo cinque cose in realtà cioè i fili che serviranno appunto per muovere le diverse dita appunto quindi ora vi faccio vedere come li faremo appunto allora ragazzi il materiale con cui andremo a fare le corde appunto è la lenza da pesca questa qua allora ragazzi prima di passare al collegamento no delle diverse corde decidiamo una lunghezza allora io lo voglio fare abbastanza lunghe perché potrebbe appunto servire quella corda in più per tipo per emergenze che ne so quindi iniziamo e facciamo cinque fili quindi quante sono le dita e la mano cinque appunto ok ragazzi dopo aver tagliato appunto questi cinque fili possiamo iniziare allora prendiamo la mano infiliamo il nostro filo nell'occhiello poi lanciamo e facciamo un nodo così questa operazione la ripetiamo per tutte e cinque le dita allora ragazzi ho cominciato ad attaccare le corde ho attaccato anzi tutte le corde questa qua per motivi di praticità le ho volute appunto legare in questo modo temporaneamente con un pezzetto di scotch ma solo per questioni appunto di praticità perché poi per il resto le scollegherò appunto adesso una delle poche cose che dobbiamo fare è di costruire degli specie di piccoli occhielli simili a questi come questi non si vede molto però questi occhielli qua sono in poche parole che vanno appunto fatti tanti quanti sono tutte le le falangi diciamo quindi vi spiego come si fa allora con questa pinza qua mettiamo però adesso da parte questa con questa pinza qua si fa all'inizio un piccolo cerchetto sempre con la tecnica delle cose poi comincio quindi a fare un piccolo cerchio si chiude ma prima di chiuderlo del tutto si lascia un piccolo spazietto qui in modo che così possiamo praticamente attaccarlo farlo entrare qua dentro poi stringerlo successivamente quindi creiamo questo piccolo si chiude ok questo procedimento ne possiamo fare quanti sono appunto tutte le le singole falangi e questo insomma questo il nostro occhiello questo occhiello poi va infilato in questo modo dopo che l'avete infilato lo chiudete quindi quella quel piccolo spazietto non si vede più e alla fine risulterà così in questo modo ok ragazzi dopo tanto tempo che ho provato a infilare sti fili che nemmeno si vedono tra l'altro ho combattuto insomma e ci sono riuscito alla fine ho infilato i fili negli occhielli e questo è più o meno quello il risultato e come vedete faccio una prova il pollice più o meno funziona ecco il pollice funziona questo qua ecco bisogna stare attenti a non farli accavallare sti fili perché sennò non funzionano ecco quest'altro funziona vediamo qual'è l'altro questo pure vediamo se nannaggia non sto riuscendo dovrebbe essere quest'altro uno di questi due ecco più o meno diciamo diciamo che questo qua più o meno funziona questo qua un po' più difettoso diciamo questo qua invece funziona ok allora questi qua bisogna quattro dita queste qua bisogna collegarle bisogna questi i fili insomma i cavi diciamo bisogna annodarli tra di loro e l'altro il pollice bisogna lasciarle scusa ecco